Anuncio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio farvi vedere i ragionamenti del 7 Marciocke Allora hanno messo i Vocaloid CU Per l'USL Perché l'avevano tutti tranne l'USL Vocaloid CU Mi hanno messo il nuovo carattere Muzion che non ho capito qual è Ci vedono anche varie cose Tipo i personaggi che hanno preso Le lobster, sto prendendo pure gli accessori Questo E la ho spiegato Ecco vedete Lo ha avuto il tuo quad Le Skullcutee hanno messo Le Skullcutee base job Cioè i job base I Paiama, l'Imperial Guard E le Skullcutee di Grafting sono finite Vabbè qua hanno fissato vari errori Il Vocaloid CU Wow Le pistole fatte a microfono Ok questa ha vinto tutto Il Siju Mini E' qualcosa di favoloso Poi la cosa più importante Le base job Ok Elseworld Sei Proprio Proprio Uno schifo Notare il piede di Aisha Come l'hanno fatto Ma Però è carino Poi c'è Poi c'è Ma Non ho capito sinceramente cosa Sta facendo Chonk Abbuara Si merita sempre il primo voto come al solido Oppure lei deve avere le tette in fuori Però sicuramente coperta in confronto a Rina Grazie Che oggi Eh Letiz Questa non è una faccia da cucina No 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 L'hanno rovinata Lo stile grafico è molto carino Lo stile grafico delle base job è carina Ambuo head Come al solido è sempre head E gli OSL Ottimi a dire la verità Si ottimi Per quanto riguarda il CEO E' bello Questi quindi erano gli aggiornamenti Al prossimo video E arrivederci Si dice Ciao gente